Milo Borracino, Assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico, parliamo di sviluppo economico, di crescita economica del territorio e il riferimento non può non andare alle ZES, alle zone economiche speciali, uno strumento, un volano indispensabile per la nostra economia. Certo, benissimo, è un'opportunità che non possiamo non osservare e soprattutto lavorare come Regione alla sua definizione. C'è stato nei giorni scorsi, in questa settimana, un incontro al Ministero, una due giorni di approfondimento, sono emerse alcune criticità, alcune indicazioni che saranno messe per iscritto che chiedono alla Regione Basilicata che insieme a noi ha sottoscritto l'accordo per la ZES interregionale Ionica e insieme ovviamente alla Regione Puglia un approfondimento sui documenti che sono stati presentati. Lavoreremo celermente già dalla prossima settimana per far incontrare i due uffici regionali, Basilicata e Puglia, per risolvere alcune di queste criticità. Stiamo lavorando con forza, riteniamo che anche quello che sta avvenendo nel porto di Taranto, insomma notizia comune che a breve si dovrebbe concludere probabilmente un accordo con un grosso partner, con un grosso operatore della logistica, della movimentazione dei merci per poter arrivare nuovamente ad una gestione efficiente e virtuosa del nostro porto. Quindi il porto, quello che stiamo facendo per l'aeroporto, non soltanto per l'ammodernamento dell'aerostazione che è propedeutica per l'avvio dei voli civili passeggeri, ma anche le attività industriali che si stanno concentrando e si stanno attivando intorno all'aeroporto e quindi l'intermodalità porto, aeroporto e ferrovie mettono nelle condizioni la zona economica speciale di avere nel porto di Taranto, l'epicentro, l'azione più importante per poter attirare investitori, attirati dalla defiscalità e dalla sburocratizzazione degli atti amministrativi che può porre in essere un modello virtuoso nella nostra retroportualità tale da poter far partire nuovi investimenti, nuove aziende e quindi occupazione e lavoro per il nostro territorio.